Una delle cose più importanti da dire è che il mainstream ormai ha i suoi soldati ha i suoi soldati che fanno il loro mestiere, ci sono poi i generali che li comandano e quindi dicono delle cose che ormai il potere vuole che dicano e soprattutto c'è un nuovo ordine l'ordine è quello che peraltro ieri è uscito fuori anche in una trasmissione televisiva con una sorta di rissa di queste che vanno evitate infatti c'era una nostra amica alla quale domani daremo parola che è rimasta coinvolta, poveraccia, è rimasta coinvolta che è la Renata Olzesen, che è rimasta un po' coinvolta in un attacco ovviamente di questi atroci, dove addirittura si arriva pubblicamente a dire no, ma chi la pensa diversamente deve essere cancellato dalle televisioni mainstream, cioè da quelle diciamo del potere deve essere cancellato ecco, Alessandro Tuso è uno degli obiettivi, la dottoressa Schiliro è un'altra Diego Sara è un'altra lo è stato stramezzi, anche che ha fatto fare una figura di merda a Pregliasco e a Rasi, cioè Rasi addirittura consigliere di Figliuolo il direttore dell'EMA ha detto in un programma che no, ma la tachipirina andava così, perché è un antinfiammatorio e stramezzi era lì a dirgli no, guardi che la tachipirina non è un antinfiammatorio e lui ha detto, beh un pochettino sì questo è il consulente di Figliuolo e il direttore dell'EMA è stato direttore ecco di chi stiamo parlando ma scusa un attimo Fabi gli ha fatto fare una tale figura di merda che praticamente a lui dopo e a Pregliasco prima che è stato bandito dalle televisioni adesso procedimenti dall'ordine dei medici l'hanno costretto a dimettersi dal reparto Covid cioè ragazzi, c'è un regime si comporta così ecco, e si sta comportando così è inevitabile è inevitabile adesso vedremo invece cosa fa fare ai suoi soldati ignari, inconsapevoli che poi noi li sputtaniamo pubblicamente e che la gente si rende conto che questi sono dei poveri uomini microscopici perché sono microbi e ve lo dico ma glielo dico infatti io guarda, quasi avrei voluto chiamarlo questo del quale parleremo fra poco perché mi dispiace perché a me dalla prossima settimana io sarò costretto a vedere i gran premi di Formula 1 su un altro canale mi spiace molto hai capito? anzi dirò di più sulla vicenda Sky poi ne parleremo perché anche noi è insomma a breve come si dice ci allontaneremo da quel sistema ecco ma noi rilanceremo per quattro ma alcuni annunci li faremo poi anche con Ilario perché dobbiamo dire delle cose molto belle e molto importanti ma noi vogliamo chiamarci ormai fuori da questa gente posso dirti una cosa poi ti devo far vedere un filmato importante un personaggio un personaggio della mafia da me periziato mi disse un giorno dice guardi lei quando valuta le persone deve sapere tutti che tutti abbiamo due occhi con cui ci guardiamo tutti abbiamo un naso con cui respiriamo e tutti abbiamo una bocca a cui dobbiamo mangiare è chiaro che gente come Erasi o come Pregliasco deve mangiare anche lui e quindi è ovvio tu pensi che la farmindustria che è padrona dell'EMA metterebbe a dirigere l'EMA uno che non è un signor sì rispetto agli ordini dell'azienda sì ma noi mangiamo scusami Alessandro mi sembra una cosa ovvia ma noi intanto ci accontentiamo di mangiare poco ma no 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 noi mangiamo siamo sobri siamo sobri siamo sobri questi sai quanti milioni di euro hanno preso solo da Draghi scusami per la campagna Covid sì ma me non 200 milioni di euro solo per la propaganda con cui gli editori dei giornali pagano i vari manutengoli del regime è chiaro che è così ma anche noi mangiamo ma io non è che voglio mangiare prendendo per i fondelli ma noi mangiamo poco facciamo la pubblicità ma noi mangiamo poco ok io poi vedi sono magro però voglio dire non è che mangiamo prendendo per i fondelli il popolo cioè io non è che io mi vergognerei però per pagarsi la barca bisogna prendere i soldi per prendere per i fondelli lo si fa volentieri ma non si può comprare guadagnando onestamente no eh eh no è molto difficile io ho girato in una società in una società così è molto difficile in una società in cui solo solo per l'Italia la Pfizer mette a bilancio come utili 8 miliardi di dollari solo per l'Italia di che cosa vuoi parlare? è chiaro che vuoi comprare l'Italia sì sì certo beh noi non abbiamo grandi scuole è chiaro quindi è un'altra cosa non abbiamo grandi scuole insomma voglio dire i film di Totò ce lo dicono chiaramente e noi abbiamo preso da lì che dobbiamo fare purtroppo vabbè allora comunque in mezzo alle grandi menzogne che ci vengono propinate e guardate signori è il motivo per il quale la gente non si vaccina e non ci crede non siamo noi i Novax ragazzi questo bisogno ve lo mettete in testa i Novax veri siete voi siete voi che avete preso per i fondelli la gente adesso quella si incazza siete voi voi inducete la gente ad avere dei dubbi con quello che dite con quello che avete promesso e con quello che fate che non avete mantenuto noi non siamo guardate che noi cioè ci teniamo alla nostra salute a quella della società in cui viviamo forse molto di più di quanto ci tenete voi anzi di sicuro di più io per esempio io per esempio noi le cazzate non le spariamo che io sono già io sono già nel mio lockdown personale perché sono terrorizzato se entro in un ristorante dai vaccinati che sputacchiano i loro virus dappertutto io ho il terrore di entrare in un ristorante ma sì ma perché questo aspetta questi vaccinati anche alla terza dose sparacchiano virus ecco però spieghiamo questa cosa perché magari le persone si possono arrabbiare con te e ti dicono ah guarda adesso va no allora spieghiamo questa cosa che sta dicendo Alessandro che è un ovviamente è un è un modo pittoresco è anche un po' forte di dire le cose però che qual è ma è la verità qual è il principio il principio è che oggi chi non si è vaccinato come come me come Alessandro e come altri che hanno preferito aspettare verificare quindi nel nostro pieno diritto va bene sono costretti siamo costretti ma noi già lo facevamo prima per una questione di educazione e di rispetto civico nei confronti degli altri a farsi dei tamponi io l'ho fatto ieri mattina lo dovrò rifare domani mattina quindi ogni due giorni e quindi noi noi che non abbiamo il famoso green pass che dura un anno nonostante il siero durasse poco tempo ammesso per quel poco che duri ce l'ha spiegato bene il professor Cosentino ma questa è una cosa ormai certa va bene ecco noi siamo sicuri di non essere malati quando entriamo in un locale dove ci sono tante altre persone purtroppo chi ha il green pass a 12 mesi a 6 mesi quello che è adesso 12 mesi credo ok non è costretto a farsi i tamponi quindi a verificare la propria la propria straneità al virus quindi è molto più probabile di essere contagiati da una persona è pieno di sintomatici è pieno di vaccinati sintomatici appunto ma certo non è stato ritirato il green pass ma qui non è stato ritirato il green pass certo certo perché il green pass anche se ti fanno facciare se non sei malato non ti viene ritirato il green pass non vieni messo in quarantena ecco questo è il senso delle frasi del professor Meluzzi perché qui a scanso ma lo capirebbe un bambino lo capisce un bambino però siccome tanta gente non lo capisce e dice ah io sono vaccinato mi stai più a qualcuno sono appunto sono vaccino non è così le frasi del professor Meluzzi si riferiscono ad una questione logica talmente logica che insomma voglio dire ecco quindi non sono frasi offensive sono semplicemente constatazioni di quello che sta accadendo e del pericolo che si corre e del pericolo che si corre